Marche Europa, Isola del Piano, oggi si parla di sostenibilità. Quali possono essere le chance offerte dal biologico per un nuovo sviluppo? Si parte qui, da Isola del Piano, proprio da qui è nato un prodotto molto interessante e lungimirante, che è quello del biologico, che lega tradizioni e soprattutto dà delle prospettive a tutto l'ambito territoriale, anche in maniera del tipo economico. Abbiamo visto come i prodotti che sono legati alla terra, la cura e la dedizione con cui vengono poi promossi, possano essere per l'intero territorio regionale un elemento di forza e di prospettiva.